In ogni immagine che caratterizza questa mostra si nota il perfetto uso da parte dell'artista di ogni tipo di risorsa, cioè ogni fonte di luce, da quella naturale fino a quella artificiale, spesso amalgamate perfettamente. È proprio come se i suoi soggetti, persone, oggetti, elementi della natura, fossero disegnati dalla luce stessa. Aki Kusudo utilizza i suoi strumenti fotografici come pennelli o matite, dunque il risultato è che le sue immagini appaiono come quadri. Sono fotografie che diventano disegni, tele, dipinti, pastelli, a volte sembrano addirittura incisioni. Può farlo perché oltre ad una grande sensibilità vanta una notevole abilità di ripresa, un'ampia conoscenza tecnica e infine una rilevante capacità di lavoro in post-produzione. Tali caratteristiche si trovano costantemente durante questo viaggio, cioè in tutte le immagini di questa prima mostra di Aki Kusudo in Italia. In ogni immagini di questa immagini, potete vedere l'artica' perfetto uso di ogni tipo di risorse, che è, ogni source di luce di luce, fra naturale all'artificio, sempre perfetto di luce. È come se i suoi soggetti, persone, obietti, elementi della natura, fossero disegnati come by light itself. Aki Kusudo uses her photographic tools, like brushes or pencils, so the result is that her images look like paintings. They are photographs that become drawings, canvases, paintings, pastels. Sometimes they even look like engravings. She can do this because, in addition to a great sensitivity, she has remarkable camera skills, a broad technical knowledge, and finally, an outstanding ability to work in post-production. These qualities are regularly found in this journey, that is, in all the images in this first exhibition of Aki Kusudo in Italy.